Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? Hanno sofferto molto gli attacchi per vie centrali, evidentemente gli avversari hanno capito che era quello il loro punto debole e hanno cercato insistentemente lo scondamento centrale, una strategia che alla fine è balza loro la vittoria. Si chiude qui il nostro collegamento, un ringraziamento a Luca Marchegiani come sempre a mio fianco. È stato un grande piacere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.